Il campionato di Serie D rischia di finire sotto gli ombrelloni se la situazione andrà avanti così. Infatti la partita di recupero tra Trastevere e Siena in programma domenica prossima è stata di nuovo posticipata a causa della perdurante situazione di casi di positività di alcuni giocatori della squadra romana. Contro il Siena la partita slitta il 2 giugno, giorno previsto per la ripresa di tutto il girone. Questo significa che le partite previste per quel giorno si disputeranno domenica 6 giugno. Quel giorno il Montevarchi sarà in campo a Siena. Poi la quarta serie tornerà mercoledì 9 giugno, domenica 13 in programma il derby del Valdarno e poi ultimo appuntamento con data da stabilire tra il 16 giugno e il 20 sempre dello stesso mese. Insomma un vero ginepraio che rischia di minare la tranquillità del Montevarchi in vista della volata finale.